allora ciao a tutti oggi tutorial su come fare la traduzione automatica dei sottotitoli allora questo è l'ultimo video che è uscito sul mio canale adesso io stavo traducendo in diverse lingue andiamo sulla matita per aggiungere i sottotitoli vedete andiamo qui su traduzione automatica e lui fa in automatico la traduzione andiamo a salvare le modifiche con pubblica in questo modo avremmo tradotto nella lingua selezionata e il video ciao a tutti